Ciao a tutti amici iscritti, collezionisti e cartoni animati, oggi recensiremo dei recensioni film, oggi parleremo di Kung Fu Panda 4, un nuovo capitolo di Kung Fu Panda della Dimos, lo so che lo sto recensendo in ritardo, ma l'ho visto questo film su streaming community. Questo film, perché lo sto registrando dopo che ho visto il film per ricordarselo, comunque è uscito il 21 marzo 2024 e dura sempre un'ora, perché i film durano sempre un'ora. Il film parla di Po, che è il guerriero dragone, e sceglie un nuovo candidato per un nuovo guerriero dragone dopo Po. Che c'era questo maialino travestito da panda, che lo volevo, e altri, ma poi decide di scegliersi da solo, con il maestro Shifu. Ma poi, l'antagonista, l'antagonista di questo film è il carambeonte. Il carambeonte era Tai Lung, che... Tai Lung non era tornato, era già morto, era negli spiriti assieme agli altri nemici che ha combattuto nei precedenti capitoli. E ci sono anche dei precedenti capitoli, Liu Shen e Kai, quello il collezionista. Ve lo ricordate? Kufu Panda 3 mi piaceva molto. Poi, si collabora con Zen. Zen è quella volpe, poi te lo ricordi, le analisi del 3 e del film di Kufu Panda 4. Sembrava una volpe a caso, che era... E' la ragione che Tabu era sempre ambientato in cinese, ma... Era un paese di ladri, dove la regina era la carambeonte. Poi, c'erano anche altri ladri, c'erano quei coniglietti un po' cattivelli, ma erano così carini. Poi c'era questo armadillo, ok? E poi c'è anche i due padri, i due padri di Po. Li Shan e Mr. Ping, che stavano cercando Po. E i cinque cicloni? Ma i cinque cicloni sono comparsi nel film. Prima, mi sembravano che i cinque cicloni non comparissero, anche il padre di Po e il padre... L'altro, quello panda, Li Shan. Non comparivano, invece no, forse comparivano nel secondo trailer. Ma questi due... Allora... I cinque cicloni erano finite solo nelle missioni separate. Cioè, come ad esempio, Scimmia era con le banane a caso. Mantide stava cercando di rompere la maledizione del... Perché i cinque cicloni... I cinque cicloni, vero? I cicloni? I cinque cicloni, giusto? Che erano da soli in questo film. E c'era solo Po che... Assieme a Maestro Shifu... Che, in verità, in questo quarto capitolo si scopre che è un panda rosso. Perché lo sappiamo tutti che... Maestro Shifu è il panda rosso. Che non è uno scoiattolo. Capito? Questo film... Direi che è perfetto. Il mio voto è un... 8,2 su 10. 8,2 su 10 questo voto. È bellissimo, ma... Questo è il miglior capitolo di Kufu Panda di sempre. Ha superato il terzo. Ma il miglior film della Dreamhawks... È ancora da vedere. Per ora è Shrek 2. Shrek 2 mi piace un sacco. Shrek 2. E Kufu Panda 4 sono ancora migliori film della Dreamhawks. No a quel Baby Boss. Non so che... Se lo guarderò questi due capitoli di Baby Boss. Ma almeno Baby Boss... Non lo so se guarderò. Perché il cartone fa schifo e non voglio fare la recensione. Comunque mi è piaciuto Zen. Zen è quella volpe ladra. Che prima faceva parte dei cattivi, ma adesso fanno parte dei buoni. E... Il nemico mi piace sempre Tai Lung. È bello come personaggio Tai Lung. Quindi questa è la recensione di Kufu Panda 4. Speriamo che uscirà. Gli ultimi due capitoli fareanno 10 capitoli di Kufu Panda. Speriamo che esca il Kufu Panda 5. O Madagascar 4. Perché c'erano il bumper della Dreamhawks in Madagascar. Speriamo che esca il 4. Non si sa ancora. O... Magari se esce il quinto capitolo di Shrek. Farò la recensione. E anche... La Reaction. Perché mi piace molto Shrek. Perché è il mio film preferito della saga preferita della Dreamhawks Shrek. Chi si riconosce Shrek. Anche Troppo Cattivi è carino. Sta arrivando anche il secondo sequel di Troppo Cattivi. Perché è bellissimo. L'hanno dato su Italia 1 settimana fa. E quindi... Questa è tutta per la recensione di Kufu Panda 4. Spero che ho trattenuto abbastanza. E noi ci vediamo alla prossima recensione film. Ciao a tutti.